Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Il fatto quotidiano che comunque riflette spesso le posizioni della magistratura è un'impunità per i colletti bianchi, c'è l'inappellabilità per i PM di sentenze di assoluzione per reati a citazione diretta e c'è anche un limite che riguarda la stampa sicuramente che fa parlare in alcuni casi e secondo alcuni osservatori di legge Bavaglio comunque di una contrazione della possibilità di pubblicare alcune cose. Poi sospendiamo il giudizio se giusto o sbagliato dal punto di vista della stampa, però sto a lei. È allarmato, è critico, non c'è niente che si possa salvare di questo disegno di legge nordio? No, noi abbiamo spiegato le ragioni tecniche della nostra contrarietà, non si tratta di essere avversari di un disegno di legge. Devo dire che questo disegno di legge in Parlamento è pure peggiorato perché hanno eliminato quei filtri alle impugnazioni che erano stati introdotti da una riforma del 2022. Purtroppo il cantiere delle riforme non si ferma mai. Quei filtri alle impugnazioni che ponevano ordine agli appelli e invece avremo con questa riforma, secondo me peggiorata in Parlamento, un numero ancora più ampio di impugnazioni senza quei minimi filtri che esistono in tutti i sistemi processuali. Quindi è pure peggiorata. L'abuso d'ufficio è eliminato, ma non è solo questo. Sulle misure cautelari la collegialità del giudice per le indagini preliminari è un costo organizzativo che non so se riusciremo a sostenere. Si introduce questo, non si rivedono i sistemi di controllo, sono riforme non di sistema, ma puntuali su alcuni aspetti che peggiorano l'attuale assetto della giustizia. Presidente Violante è d'accordo.